Negli ultimi anni l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo ha potenziato enormemente la sua attività di ricerca grazie alla capacità di gestire e analizzare dati. Una rivoluzione silenziosa che passa attraverso la più avanzata tecnologia e che permette all'Istituto Teramano di raccogliere informazioni in tempo reale guardando in dettaglio il mondo intero, per esempio attraverso scansioni satellitari. Analizzando sapientemente questi dati è possibile per esempio fare previsioni sulle produzioni vegetali, sugli spostamenti di animali, le modificazioni climatiche e le conseguenti comparse di epidemie. Quanto è importante l'innovazione di Big Data per l'Izs? È fondamentale, gestisce un numero crescente di numeri, di dati, di informazioni e analizzare e gestirli è oggi possibile con le nuove tecnologie di intelligenza artificiale eccetera eccetera. È un mondo che corre a una velocità supersonica per il quale generalmente siamo anche poco formati e quindi facciamo fatica ad avere il quadro di tutto quello che possiamo distillare dai dati. Uno dei quali stiamo concentrando ci sono ad esempio le scansioni satellitari che ci consentono oggi, sono pubbliche ma ci vogliono strumenti adeguati per analizzarli, di avere un quadro complessivo del mondo. Continuamente questi Sentinel raccolgono immagini e da queste immagini noi possiamo avere informazioni su come sono le vegetazioni, come l'acqua, come si spostano le mandrie qui e nel mondo. L'Izs di Teramo ha una lunga tradizione di eccellenza nella raccolta dati. Vent'anni fa proprio all'Istituto Caporale venne istituita l'anagrafe nazionale zootecnica. Il tema della giornata è proprio quello di iniziare a capire quali sono gli strumenti più innovativi per poter estrarre ulteriore conoscenza da questi dati. Le anagrafi hanno rappresentato una grossa attività per l'Istituto e nel corso di questi anni abbiamo raccolto dati su tutte le specie zootecniche, bovini, ovini. Adesso stiamo sviluppando per conto del Ministero della Salute l'anagrafe nazionale degli animali d'affezione, quindi dei cani, dei gatti. Grazie